E' illegittimo il provvedimento che ha disposto il deniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per attesa occupazione prima che fosse scaduto il termine riconosciuto dalla legge allo straniero per trovare una nuova occupazione, ossia sei mesi. Infatti vi ha il diritto del lavoratore migrante ad un trattamento identico a quello dei cittadini italiani con l'unica differenza per lui di dover trovare una nuova occupazione entro un certo limite di tempo, sei mesi, tempo che è ritenuto ragionevole per lo scopo per il quale è previsto l'inserimento nel mondo del lavoro e quindi tutela in modo adeguato lo straniero. Il provvedimento va pertanto annullato e l'amministrazione dovrà verificare se nel frattempo il ricorrente ha trovato una nuova occupazione visto che, come conseguenza della sospensione del provvedimento impugnato, l'iscrizione alle liste di disoccupazione ha continuato ad avere efficacia e quindi sarà possibile valutare se nel frattempo la situazione lavorativa ha avuto uno sviluppo positivo per il ricorrente. Grazie a tutti.